Buonasera a tutti, seduta di rialzi per le principali piazze finanziarie europee. Oggi il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita globale del 2019 di 0,1% al 3,2%, mentre quelle per il 2020 sono state ridotte al 3,5%. L'erozona però dovrebbe riprendere ad accelerare verso la fine del 2019 e nel 2020, mentre per l'Italia il Fondo Monetario Internazionale ha lasciato invariate le stime di crescita allo 0,1% per l'anno in corso e ridotto marginalmente quelle del prossimo dal 0,9% più 0,8%. Sul tema politico, l'ex ministro degli esteri britannico Boris Johnson sostituirà a partire da domani la premier britannica Teresa May alla guida dell'esecutivo. Il primo ministro della Spagna invece, Pedro Sanchez, ha fallito il suo primo tentativo di ottenere i voti per consentire al suo partito socialista di formare un governo a causa dell'astenzione dell'ultimo minuto di Unidas Podemos. Gli operatori però restano tutti in attesa della riunione della Banca Centrale Europea che si terrà appunto giovedì prossimo. Bene, adesso andiamo a vedere quali sono state le chiusure delle principali piazze finanziarie europee. Dax che chiude a più 1,65%, seguito da LibEx a più 1,26%, poi abbiamo il CAC di Parigia a più 0,92%, Fuzzi Londra a più 0,51% e Fuzzi Mibu che chiude a più 1,04%. Bene, mentre invece per quanto riguarda le news che sono state rilasciate oggi, a giugno il dato sulle vendite di case esistenti negli USA scende dell'1,1% su base mensile arrivando a segnare 5,27 milioni di unità. Il dato delude alle stime che avevano previsto una flessione dello 0,6% a 5,32 milioni di unità venduta. Su base annua la flessione è stata del 2,2%, i prezzi calano dell'1,7% mensile. Bene, adesso andiamo a vedere invece cosa ci offre il calendario macroeconomico di domani, mercoledì 24 luglio. Alle 9.30 dalla zona euro abbiamo l'indice di direttori di acquisto e settore manufatturiero della Germania di luglio, alle ore 10 dalla zona euro l'indice PMI manufatturiero e poi abbiamo durante il corso di tutta la giornata abbiamo il vertice dei ministri delle finanze delle singole realtà europee, poi alle 15.45 si passa alla sessione americana con l'indice di direttori degli acquisti e settore manufatturiero di luglio, alle ore 16 le vendite, nuove abigliazioni e mezz'ora più tardi le scorte di petrolio greggio. Bene, ora andiamo a vedere i movimenti più importanti. Passiamo dall'euro-dollaro. Oggi è un euro-dollaro con la forza del... con un dollaro molto forte oggi che spinge, infatti nei confronti soprattutto dell'euro, oggi abbiamo assistito ad una decisa movimentazione ribassista di quasi 70 punti. Il prezzo in questo momento si trova a 1,1150 e stiamo a metà strada per poter raggiungere il lato inferiore di questa zona di demand dove a più riprese, soprattutto nelle ultime analisi settimanali, ho indicato che in caso in cui una breakout di sotto 1,11, 1,1080 potrebbero aprirsi, potrebbe aprirsi quindi a questo punto, su questo scenario in ottica di lungo termine, scenari ribassisti. con un primo target intorno a 1,08, quindi con una possibile chiusura del gap ancora aperto dovuta alle elezioni di Macron e poi il prezzo potrebbe raggiungere 1,0325, ovvero un limite storico che poi è stato raggiunto quest'area di demanda l'ultima volta nell'inizio del mese novembre del 2016. Per quanto riguarda invece la situazione legata al dollaro yen, beh, dollaro yen, al momento abbiamo una movimentazione al rialzo dopo che il prezzo è andato ad appoggiarsi su 78,6 quindi farsa ripartenza su 61,8, adesso sta diciamo al test del 108,104, di sopra questa zona potrebbe partire la terza fase di espansione rialzista, quindi impulso, correzione, espansione. Sterlina dollaro, la sterlina dollaro dà le indicazioni con Boris Johnson, quindi euroscettico, quindi che ha il suo cavallo di battaglia e l'uscita dell'Europa anche senza un accordo vero e proprio, quindi ciò sta spingendo al ribasso le quotazioni della sterlina, al momento vedete abbiamo un sell a mercato che ci troviamo positivi. stessa situazione abbiamo anche per quanto riguarda i sell su stellina yen, dove in questo momento ci troviamo ad intorno a meno 10 punti dal trigger point, però vedete al di sotto il prezzo continua a mantenersi al di sotto il pivot settimanale, quindi la view al momento rimane ribassista. stessa situazione, per sellina dollaro australiano, nonostante c'è stato un recupero da parte dei compratori, però la view continua ad essere ribassista. ovviamente aspetto stasera come chiude questa candela per poi decidere sul da farsi, però vedete al momento abbiamo questa zona, possibile zona di ritorno alle vendite, dove questa zona potrebbe ritornare un'altra volta il tutto al ribasso. per quanto riguarda invece il gold, il gold rimane ancora in uno stato di apparente fase di congestione, andiamo a vedere proprio il giornaliero, vedete il giornaliero e il prezzo è ritornato in area 1.414,47 dopo l'impennata rialzista che l'ha portato esattamente l'ultimo giornata della settimana scorsa in area 1.455 per poi stornare di 370 punti. situazione che si vede anche qua, qui abbiamo una bearish batta e fra questa zona potrebbe partire, vedete qua come mantiene il pivu settimanale, quindi falsa rottura al rialzo sul pivu settimanale, da questa zona potrebbe partire un sell. ovviamente aspetto stasera, mentre invece per quanto riguarda via scroll, tutto da rifare, giornata di indecisione come anche d'altronde anche le ultime due giornate, quindi ci troviamo tra il pivu mensile ad 56,23 e il livello annuale a 55,78. per quanto riguarda invece la situazione legata agli indici, l'uniche operazioni è, nonostante siamo ancora negativi, però mantengo le operazioni a mercato, in quanto abbiamo sul 4 ore, abbiamo una bearish butterfly con il punto D che è rappresentato da una pin, in farsa una pin e quindi da questa zona potrebbe partire la movimentazione ribassista. bene, quindi per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo con la prossima diretta live che si darà domani mattina alle ore 8.30, buonasera da tutti.